ciao a tutti io sono matteo carucci ne ho deciso di fare anche questi video da inserire all'interno del mio forum di moda architettura in questo primo video e faccio vedere la realizzazione passo passo di un pigiama da donna che verrà realizzato in seta e pizzo allora innanzitutto iniziamo col dire che questo qui che vedete a fianco è il mio bozzetto nel senso che io ho preparato un cartomodello io lavoro sempre sulla taglia 42 il manichino e taglia 42 e nel interagire con con la mia cliente in questo caso abbiamo deciso di tirar fuori un modello io intanto preparato questo bozzetto realizzato con della soffa di cotone comunque anche va bene anche in genere si usa anche la teretta ma è la teretta non piace molto perché abbastanza rigida per cui molti difetti non li vedete addosso perché comunque sia è come se usaste il cartoncino il cartoncino ovunque scende benissimo sia sulle spalle quindi difetti non vi fa vedere usate sempre le stoffe abbastanza morbide in questo caso io l'ho fatto provare va benissimo addosso per cui comunque infatti abbiamo fatto anche mi avvicino qui al manichino per farvi vedere anche abbiamo fatto i segni mi ha fatto i segni su come vorrebbe che fosse allora questa linea qui questa parte qui verrà in in pizzo così come anche le maniche mi ha fatto il segno della lunghezza delle maniche mentre il pantalone adesso magari abbassa un po la webcam o comunque se riuscite ecco qua non c'è bisogno che abbassi la webcam lì verranno anche degli inserti quindi intanto abbiamo fatto che è stata fatta questa prova qui dietro anche qui lei mi ha fatto questo segno io invece preferisco perché secondo me è un segno decisamente più pulito e abbassarlo tanto ovunque non non userà pare il reggiseno perché comunque è un pigiama che andrà a dormire quindi uno comunque sta comodo quindi non stiamo a guardare benissimo la parte di scollatura dietro per vedere eventualmente se non c'è il reggiseno non serve stare a vedere esattamente il punto di conseguenza io farò arrivare all'altezza della manica in maniera tale che almeno graficamente il pigiama abbia abbia un senso così come anche qui verrà spostato questo punto che non va bene lo farò arrivare fin sotto in maniera tale da creare comunque un'armonia tra le tra il pizzo neanche la seta la seta bianca quindi una volta abbiamo fatto il bozzetto io questo qui lo considero un bozzetto quindi comunque voi partite da un'idea quindi partite un'idea che comunque avete in mente poi comunque realizzate quello che dovrebbe essere il vostro cartamodello dopodiché passerete a lavorare sul bozzetto e di conseguenza le modifiche portate al bozzetto le portate anche al cartamodello e infatti qui vi faccio vedere anche una cosa che avevo fatto il pantalone io avevo fatto a me sarebbe piaciuto una specie di fiocco però in effetti per la notte non va bene quindi questo qui decisamente censurato se riesco ad abbottonarlo forse che è il primo video quindi non fateci caso insomma a me sarebbe piaciuto una cosa del genere sì però in effetti vanno a dormire non è il massimo quindi questa parte qua sparirà e quindi questo qui è il bozzetto vi faccio vedere la stoffa ovviamente questo è il mio angolo di lavoro il manichino maschile lui sarà buono perché in questo momento non ci serve questo è il pizzo non so se riesco a farvelo vedere ecco qua questo sarà usato per la parte sia per le maniche che anche per la parte questa parte di sopra del pigiama ecco qua questa è la parte positivo che è anche la seta bianca quindi una volta che noi abbiamo preparato proprio perché non è bello da vedere come mettiamo così così sembra più pigiama e questa invece è la seta quindi una volta che comunque abbiamo preparato che abbiamo tutto a disposizione io ho qui i cartomodelli sia questi per quanto riguarda i pantaloni che per quanto riguarda il di sopra io ovviamente se andate nel mio forum ci sono c'è anche questo cartomodello io ovviamente mi ristampo quando la stampante e poi vedete questi sono tutti i fogli formati a 4 appiccicati con lo scotch perché poi anche se diciamo quel margine di mezzo centimetro se non siete così precisi alla fine non succede nulla perché comunque anche se a pelle un abito non stiamo a guardare mezzo centimetro c'è comunque un piccolo margine d'errore per cui non ci sono problemi potete anche usare tranquillamente i fogli a 4 poi se sgarrate di qualche centimetro non ci sono problemi dunque detto fatto questa premessa che è importante per farvi vedere lo sviluppo di questo di questo che sarà il bozzetto come diventare il pigiama passiamo alla fase successiva cioè al taglio della stoffa per cui la prima parte uguale ovvero l'introduzione per quanto mi riguarda la chiudo qui e poi adesso preparo la stoffa con i cartamodelli così andiamo al passaggio successivo cioè quello di tagliare la stoffa grazie a tutti